...sbloccava dall'ultimo successo interno con il Frosinone. A quanto cinquesimo è De Farenzi. I daoni allora ci credono e mostrano di voler puntare addirittura alla vittoria. Ecco che Cagluna fa in... ...e come confermano le immagini, toccato da Scienza al talone destro. Per l'arbitro è il rigore sul vestito di Calais Silenzio, che poi si trasforma in boato dopo la rete di Chialesi dal dischetto. Il presidente Soglia in tribuna d'onore è invisibile.